Nella provincia di Agrigento, tra i candidati del Partito Democratico alle elezioni regionali del 25 settembre, a sostegno della candidata alla presidenza Caterina Chinnici, vi è l'agrigentino Raul Passarello, coordinatore provinciale del Movimento Politico Servire Agrigento. Raul Passarello, pertanto le ragioni della sua candidatura? La candidatura è la prosecuzione di un lavoro, di un'attività avviata negli ultimi due anni con il Movimento Servire Agrigento. Noi in questi due anni abbiamo cercato di rappresentare la provincia di Agrigento di fronte a tutte le problematiche che oggi sono irrisolti in materia di infrastrutture, di viabilità, turismo, sanità e quindi una provincia che oggi ha bisogno di una mano di aiuto, ha bisogno di una politica di qualità e ha bisogno di una classe politica all'altezza del ruolo. Un impegno che intendiamo portare avanti a fianco di Caterina Chinnici, una figura autorevole, una figura credibile rispetto ad un centrodestra, targato Musumeci e oggi Schifani, che ci lascia soltanto macerie. Quali sono le priorità di azione nella provincia di Agrigento con il collante di collegamento con l'Assemblea regionale, secondo lei? Ma questa è una provincia che oggi non ha un chilometro di autostrada, una provincia che vive diverse criticità, una provincia che in ambito sanitario è allo sbando, quindi qui c'è tanto lavoro da fare rispetto comunque ad una classe politica che è stata distante, distaccata dal territorio.